Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla variante di Valico in direzione Bologna 6 km di coda per un veicolo in avaria tra Badia e il Vivio A1 variante. Sempre in direzione Bologna in A1 rallentamenti tra Firenze Nord e Barberino. In direzione Roma per lavori un chilometro di coda tra Barberino e Calenzano. Sulla FIPLI tra Montelupo ed Empoli Est chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni con chiusura dello svincolo di Empoli Est in ingresso in direzione Firenze. Per questo motivo ci sono due chilometri di coda in direzione Firenze tra Empoli e Montelupo, rallentamenti tra Montelupo ed Empoli Est. La viabilità cittadina a Firenze per lavori urgenti chiusa via di Careggi tra via Bolognese e via Incontri. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!